Eccoci tornati sul canale di Devi per trattare l'argomento delle navi speciali su World of Warships Se sei un nuovo visitatore sul mio canale e ti interessano video inerenti a carri armati, aerei e navi Il canale di Devi è il canale che fa per te perché porto argomenti che potrebbero interessarti Visto appunto che l'algoritmo di Youtube ti ha portato sul mio canale In descrizione troverai i link per scaricare in maniera del tutto gratuita con dei vantaggi World of Warships e War Thunder Faremo appunto oggi in particolar modo delle navi speciali E' una nuova tipologia di nave che è in test ma fondamentalmente verrà rilasciata in futuro E sono sul public test per farvi vedere attualmente le navi che sono state prodotte E che sicuramente avrete già visto in questi mesi all'interno del gioco Nelle random, in cooperativa, un po' ovunque anche nelle ranked Stanno spopolando sempre di più Quindi è giusto capire che cosa dobbiamo affrontare e che cosa dovremo giocare in futuro Dobbiamo dire subito una cosa Le navi speciali sono relativamente una specie di livello 11 Come ben saprete le navi fino a questo momento si erano fermate fino al livello 10 Ebbene la stellina non è nient'altro che un'indicazione che la nave è qualcosa in più Quindi non solo è speciale ma in definitiva è come se gli sviluppatori avessero voluto mettere una nave di livello 11 Anziché mettere il livello 11 hanno messo la stellina In modo tale che dicono ragazzi tranquilli oltre la stellina non possiamo andare Non ci sarà spazio per un livello 12 Questo diciamo dovrebbe essere il limite che abbiamo intenzione di raggiungere Le navi che attualmente sono state testate, prodotte e sviluppate come supernavi Sono disponibili, saranno disponibili come segue Abbiamo la Satsuma dopo la Yamato La Yamagiri, rinominata già Yamagigi dopo la Shimakaze Abbiamo inoltre la Napolis dopo il Death La United States dopo la Midway Lo Zorchi dopo il Delni La Noffer dopo la Prusen L'Eagle dopo l'Audacius In testa anche l'Edgar dopo il Minotaur Per quanto riguarda la Francia abbiamo il Condé dopo l'Henry Qui ci sarà la Patrie dopo la Republique Italia, Panasia, Europa e Paesi Bassi Al momento non hanno nessuna nave, nessuna supernave Quindi sono senza Per quanto riguarda Vediamole in acqua Eccole qui Questa è la Yamagiri Poi faremo anche un attimino un'analisi tra Yamagiri e Shimakaze Per avere anche un'idea di che cosa stiamo parlando La Satsuma, eccola qui La United States Sicuramente navi bellissime esteticamente Questa qui 10 e lode Lo Zorchi, eccolo Piccolino La Noffer Ok E la Eagle C'è anche la Napolis che adesso andiamo a comprare Perché vorrei aprire un altro punto E poi vabbè La Patrie che è in test Per quanto riguarda la Napolis Il costo è di esattamente 47.5 milioni E questo ovviamente ragazzi dà in qualche modo anche un piccolo campanello di allarme Su quelli che saranno i crediti Che dovremo utilizzare per mettere le mani su tutte le navi speciali Infatti il solo acquisto della supernave non sarà sufficiente Perché ovviamente dovremo mettere anche i potenziamenti Ebbene, facendo un calcolo molto molto rapido Ritengo che serviranno circa Sui 500 milioni di crediti per mettere le mani su tutte le navi speciali Vedete, solo questa qui costa 47 milioni e 500 mila crediti Dovrete mettere già l'ultimo modulo che costa 3 milioni E saliamo a 50 milioni per una singola nave Quindi capirete bene che attrezzare tutte le supernavi Sarà anche un impegno economico non da poco E io non posso che suggerirvi Ovviamente di mettere già i crediti da parte in vista futura Perché poi vi ritroverete Se non inizierete a risparmiare fin da subito Senza crediti E quindi non avrete le supernavi E non potrete giocarle in definitiva Una spesa aggiuntiva in crediti Per quanto riguarda non solo l'acquisto della supernave E dei suoi potenziamenti Sarà rappresentato anche dalle bandierine Che sicuramente dovranno essere messe Cosa fai? Giochi una supernave e non metti le bandierine Già le bandierine si mettono a prescindere Per quanto riguarda ogni nave anche normale Una supernave giocarla senza bandierine Sarebbe davvero il colmo Quindi aggiungete alle cifre che vi ho detto prima Ulteriori crediti per mantenere in battaglia In maniera efficiente la vostra supernave Sì mi viene da ridere perché ho appena letto un commento Sul mio video del social media manager Avevo fatto un attimo una pausa E va bene insomma Lasciamo stare Torniamo sull'argomento Allora I commenti mi fanno sempre morire da ridere Grandissimi Ma serio E dicevo La Shimakaze Facciamo un piccolo confronto tra la Shimakaze e lo Yamagiri Yamagiri La Shimakaze viene spotta da 5.6 E a 2.7 dall'aria Lo Yamagiri a 5.6 e a 3.2 Quindi la rilevabilità dal mare rimane uguale Manovrabilità 41.5 per lo Yamagiri E 41 per quanto riguarda la Shimakaze Difesa contraerea La Shimakaze ha un valore di 44 E invece la supernave ha un valore di 54 Quindi guadagna qualcosina Le cariche di profondità sono 20 per la supernave E 16 per quanto riguarda la Shimakaze Quindi da questi parametri diciamo minori Guadagna qualcosina la supernave Andiamo adesso a vedere l'armamento principale di queste navi Che sono rappresentati dai siluri I siluri della Shimakaze possiamo scegliere fra tre tipologie I siluri a 8 km A 12 e a 20 km Quindi possiamo portare con noi solo una tipologia di siluro Per quanto riguarda invece la supernave Già qui c'è una grandissima differenza Perché ci dà la possibilità Di scegliere una coppia di siluri da portare con noi Cosa significa? Possiamo decidere se portare la coppia dei 12 e dei 20 km Oppure la coppia dei siluri da 8 km e da 20 km Quindi in definitiva durante la partita deciderete se utilizzare i siluri a 20 km Oppure a 8 km Se mettete questa configurazione Per quanto riguarda Ed è una cosa molto molto utile Perché cambia in base alla partita stessa Della situazione Per quanto riguarda l'artiglieria Abbiamo 2150 e 21 di penetrazione Con i 127 classici Con una gittata di 12 e 1 11 e 4 la gittata Perdiamo qualcosina E la penetrazione e il danno è invariato Quindi da questo punto di vista Non ci sono cambiamenti La cosa molto importante è che La supernave possiede La capacità di avere il fuoco a raffica Che se attivato ci consente di sparare Intervallo tra singoli colpi Un secondo Quindi noi spariamo il primo colpo Il secondo e il terzo E poi ci sarà un tempo di ricarica Di 31.5 secondi Questo fuoco a raffica È molto utile Se dobbiamo chiudere una nave Magari che ha pochi punti di vita E sta per andare invisibile Magari è rimasto 2000-3000 punti di vita E quindi noi diamo il colpo finale O comunque sia Si può utilizzare anche in altre circostanze Per quanto riguarda la vita La supernave è 26.050 punti Mentre la Shimakaze Ha esattamente 21.400 punti Parliamo di circa 505.000 punti in meno Ora Un motivo per giocare Per continuare a giocare La Shimakaze Vedendo questi dati Sinceramente non lo trovo Perché a questo punto Io Quando verrà rilasciata Andrò a giocare La supernave È fondamentalmente Una Shimakaze È potenziata È più veloce Ha più siluri Una cosa che non ho detto Qui abbiamo i 3x6 Anziché i 3x15 Quindi abbiamo 3 siluri in più Lanciamo 18 siluri alla volta Da una singola nave Il che è una cosa fantastica Io ho fatto ovviamente Ragazzi Una piccola comparazione Tra due cacciatori perinieri Ovviamente Fare la comparazione Tra tutte le navi Normali E supernavi Richiederebbe Molto più tempo Però Un attimino Era per capire Di cosa stiamo parlando Del perché Sono navi speciali Sono supernavi Offrono un vantaggio Superiore Alle navi Di linea Certo è Che comunque sia Bisogna Se non sai giocare La Shimakaze Non puoi pensare Di giocare Lo Yamagiri Comunque sia Ripeto Ci deve essere Una salita Lineare Fino alla supernave Quindi giocherai Da livello 1 Fino alla nave speciale Altrimenti Ti mancheranno Le basi Per capire Appieno Le sue Capacità Di Di giocata Potrei stare qui A parlare ore Delle varie navi speciali La United States Che chiama i bombardieri Ok L'hanno offer Con le armi secondarie Perfetto Però il senso Del video È un altro Cercare di fare Il punto della situazione Su quello che Attualmente Il gioco World of Warships È su dove Stiamo andando Con la giunta Dei sommergibili E delle navi speciali Che in qualche modo Entrano a gamba tesa All'interno Del gioco stesso Ci sono Molte persone Che le apprezzano E molte persone Che invece Non sono d'accordo Con la giunta Dei sommergibili In primo luogo E delle navi speciali In secondo luogo Perché comunque sia Sono un qualcosa Che sicuramente Avrà bisogno Di maggiori test E maggiori Aggiornamenti Per in qualche modo Amalgamarsi Se questa è la strada Che intendono Percorrere Gli sviluppatori Con il gioco Attuale E mi rendo conto Che non è una cosa Che possiamo fare Così dall'oggi Al domani Per quanto mi riguarda Il mio modesto Parere Attuale È che L'idea di fondo Non è male Ovvero Una ventata Di aria fresca Del genere Ci sta Finalmente Una persona Che ha tutte le navi All'interno del gioco Il gioco a 6 anni Potrà sbloccare Qualcosa di diverso Nuove sfide Per le varie classi E le varie nazioni Quindi In definitiva Il gioco In qualche modo Cerca di Animarsi Tutto D'un tratto Con l'aggiunta Di navi speciali E sommergibili Per quanto mi riguarda Io personalmente Inizierò a risparmiare I crediti Per Essere pronto All'acquisto Di queste Supernavi Che in un modo Nell'altro Comunque sia Faranno parte Del gioco World of Warships Questo è poco Ma è sicuro Poi non so Se ci sarà Una modalità Solo con sommergibili E navi speciali Questo non ve lo so dire Attualmente Però le cose Non sembrano Andare in quella direzione Ovvero ci ritroveremo Tutto quanto Il pacchetto All'interno Delle random Ragazzi Il video termina qui Fatemi sapere Nei commenti Cosa ne pensate Di sommergibili Di navi speciali Del gioco Se sta prendendo Una direzione Che vi piace O comunque sia Dite un pochino La vostra Nei commenti Video terminato Io come sempre Vi ringrazio Per i like I commenti E le visualizzazioni Noi ci vediamo Con un prossimo video Con un prossimo gameplay Ciao Sta un po' laggando La webcam Qui Non lo so perché Vabbè L'importante è che Sentite le parole A presto Grazie a tutti.